Buon pomeriggio dalla redazione di Florence Multimedia in studio Nicola Giannattasio. Traffico regolare su tutta la rete stradale ed autostradale della regione toscana. Sulla Grosseto Fano riduzione di carreggiata e svincolo chiuso tra Monte San Savino e Montagnano in direzione San Zeno fino al 16 giugno. Sul raccordo Siena-Firenze in direzione Siena scambio di carreggiata per lavori tra Firenze in Pruneta e San Casciano Nord e tra Badisse e Monte Riggioni. Sulla Statale un'Aurelia senso unico alternato per lavori tra l'incrocio di Scarlino Scalo e quello di Stagno in tratti saltuari. In a 12 controllo della velocità attivo tra Cole Salvetti e la barriera di Rosignano Marittimo in direzione Rosignano. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!